Comincia una campagna elettorale senza fine, perché abbiamo il 23 febbraio il Senato e quindi noi ci saremo, con una candidatura che sceglieremo, verificheremo per una senatrice o un senatore. Poi avremo le regionali a maggio, probabilmente il 31 maggio, poi avremo le comunali, probabilmente a giugno del 2021 e queste sono le date sicure, poi non so se ce ne saranno altre, ma già queste tre bastano per ritenere che sarà da adesso, dal 2 gennaio, una campagna elettorale che va fatta con passione, va fatta con convinzione e noi ci saremo, ci saremo a tutte e tre le competizioni, quindi ci saremo sia per il Senato, ci saremo per le regionali e ovviamente ci saremo per le comunali. A chi ti rivolgerai? Non ho capito. Non ho capito il suo nome per le suppletive? No, assolutamente no, io come più volte detto al 99% sarò sindaco fino al 2021, lascio l'1% perché nella politica c'è sempre la possibilità che accada qualcosa di straordinariamente innovativo e allora si potrà anche ipotizzare qualcosa di diverso, ma sicuramente non per il Senato, quello lo escludo al 100%. Sono le alleanze, sì, ti dico qualche settimana fa hai parlato che se si presentassero determinate condizioni DEMA sarebbe disponibile anche a parlare con altri, pensi che ci sia questa possibilità oggi o è molto ridotta? No, noi stiamo parlando con altri anche oggi, quindi noi stiamo parlando con altri, l'abbiamo fatto con convinzione anche già da qualche mese e lo continueremo a fare. Se pensiamo alle regionali il nostro obiettivo è di costruire un campo largo, quindi una coalizione civica regionale. Il nostro obiettivo non è andare da soli, è andare insieme ad altri e quindi faremo di tutto perché questo accada con una candidatura innovativa e forte e credibile e con una coalizione fatta di persone che hanno una coerenza, una credibilità e una capacità di rompere un sistema e di governare. Non abbiamo steccato in questo, quindi ci rivolgiamo a aree che sono più di una e ci auguriamo di poter avere una risposta soddisfacente. Ovviamente, questo lo dico giusto perché è già implicito, l'ho già detto, lo voglio ribadire visto che c'è una domanda precisa, che siamo alternativi a qualsiasi candidatura che vede nelle figure di De Luca e Caldoro i riferimenti, per capirci. Se altri non sono disposti insieme a noi a costruire una coalizione civica regionale, noi in quel caso comunque andremo da soli. Già adesso abbiamo messo in campo un numero soddisfacente di candidature. Noi faremo un'unica lista che sottoponiamo alla dialettica e all'attenzione di questo campo largo, nell'auspicio di fare una coalizione. Io penso che ci sono i margini per poterlo fare, ma questo non dipende chiaramente solo da noi, però noi ci stiamo preparando e credo che l'annunceremo tra qualche giorno dopo l'epifania, questa lista con un simbolo ovviamente che stiamo verificando, anche questo dipende molto se c'è una coalizione o meno, se si chiamerà Demo, avrà un altro nome, ci saranno persone forti, quindi noi non stiamo solo per partecipare. Con una coalizione avremo molte probabilità di vincere, da soli parteciperemo comunque per vincere, cioè noi mettiamo in campo persone in grado di prendere molti voti e di essere molto più attraenti, lo dico con tutto il rispetto nei confronti delle altre persone, rispetto a un'altra riproposizione di uno scontro politico tra De Luca e Caldoro. Quindi noi saremo la novità. Vediamo soprattutto se tra il Movimento 5 Stelle, ma anche all'interno del Partito Democratico, ma anche all'interno delle forze più moderate, conservatrici, lo stesso centrodestra, non si comprenda che una coalizione civica regionale forse è quello che si aspettano oggi i cittadini campani. Noi li aiuteremo, come dire, tra virgolette, senza supponenza, ad andare in questa direzione. Siccome vedo troppo tentennamento, mi rendo conto che sono le regionali in Emilia Romagna soprattutto, ma noi non possiamo aspettare. Quindi noi la lista la mettiamo a terra subito, con l'auspicio di stare insieme ad altri, altrimenti meglio soli che male accompagnati.